Barra inversa. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbero vivendo un periodo difficile. Stando a quanto si legge su diversi siti spagnoli. Il calciatore sarebbe stufo del comportamento della compagna e il loro rapporto sarebbe così entrato in crisi. Pare che l'ex commessa di Gucci, oggi modella e influencer nota in tutto il mondo, sia diventata negli ultimi mesi più egocentrica e altezzosa che mai. Più interessata a badare a se stessa. Che all'attaccante e ai loro figli come ha sempre fatto in passato. A infastidire CR7. Poi, ci sarebbe anche il modo in cui la Rodriguez tratterebbe le amiche e la scarsa autenticità che trasparirebbe da Soi Georgina. La docu-serie è disponibile su Netflix che racconta la vita privata e professionale della 29enne spagnola ma di origini argentine. Gli ultimi episodi di Soi Georgina 2 hanno attirato diverse critiche. Molti addetti ai lavori hanno accusato Georgina Rodriguez di essersi montata la testa a causa della fama e della popolarità. In una scena si vede la compagna di Cristiano Ronaldo che invita una sua amica a non toccare con le mani il suo ultimo costoso acquisto. Una borsa di Hermes, per non rovinarla. Un gesto che non sarebbe piaciuto al giocatore. Che sarebbe stanco di certi atteggiamenti. Tutta questa superbia avrebbe causato una grossa crisi nel rapporto con Ronaldo. Sembra che il calciatore sia deluso da questo cambio di atteggiamento della sua compagna, crede che sia diventata troppo egocentrica da quando è diventata famosa, scrive Mondo Deportivo. Virgola.